Oggi l'Occhio Club Lugano ha lanciato la campagna Forza Lugano Forza. Marco Mantegazza, responsabile marketing dell'Occhio Club Lugano, come è nata l'idea di questa campagna in questo momento storico? Forza Lugano Forza nasce in un momento storico difficile per la comunità di Lugano, quindi nasce tenendo in considerazione questo fattore. Abbiamo superato tutti individualmente la fase 1 di questa malattia che ha invaso tutto il mondo e di conseguenza anche Lugano, l'abbiamo affrontata singolarmente, individualmente, ognuno secondo coscienza, facendo i propri gesti e via dicendo. Detto questo, tutti ci siamo interrogati su quello che potevamo fare uniti come gruppo. Ci siamo sentiti trasversalmente un po' con tutta l'organizzazione in maniera molto spontanea. I giocatori in primis si sono esposti per volersi mettere in gioco in questo momento dove abbiamo un pochino più di tempo da dedicare al prossimo e in questo momento dove comunque sono sorte delle riflessioni importanti rispetto a quello che la comunità di Lugano rappresenta per noi. Quindi questo fattore, unito a un altro fattore, questa volta più positivo, il nostro ottantesimo anniversario, ci accingiamo a vivere la nostra ottantesima stagione da protagonisti. Per questo da lì nasce lo slogan Forza Lugano Forza, che è sia un appello alla nostra città per esaltare questa fase di ripartenza, per provare a dare il nostro contributo alla fase di ripartenza della nostra città, utilizzando però le prime parole del nostro storico inno che idealmente vogliamo tornare a cantare tutti insieme in pista all'inizio della prossima stagione. Nel comunicato stampa si dice che l'Occhio Club Lugano e tutte le sue componenti dedicheranno una frazione del loro tempo e si impegneranno in piccole azioni in favore delle associazioni di volontariato. In cosa consisteranno questi gesti e queste piccole azioni? In questo momento ci siamo resi conto della necessità di tornare alla normalità. La normalità a noi è garantita da tanti enti che non solo durante i tempi di coronavirus ma in generale durante l'esistenza della nostra comunità fanno tanti sforzi con probabilmente poca visibilità affinché noi possiamo godere della nostra normalità. Quindi gesti straordinari per rendere la nostra vita normale. Questi gesti preziosi vogliono essere esaltati dalla nostra campagna attraverso la condivisione di quella che è la nostra visibilità attuale. Noi abbiamo la fortuna come club di godere di una visibilità straordinaria. In questa fase vogliamo condividere questa visibilità con degli enti che fanno bene alla nostra città e dargli così un giusto risalto affinché la gente sia sensibilizzata rispetto alle cose che fanno e possa essere, perché no, anche partecipe. Un aspetto che viene evidenziato è quello della campagna a costo zero. Cosa si intende? Si intende che in questo momento particolarmente difficile per l'economia luganese vogliamo riscoprire il valore del tempo. Un valore del tempo che ci può permettere di fare dei gesti straordinari che possono avere un impatto forte al di là di una donazione economica che sono altrettanto, ovviamente, altrettanto importanti ma in questo caso noi vogliamo dedicare del tempo fisico. Un esempio importante arriva dal nostro presidente Vicky Mantegazza che personalmente sta ritagliando delle maglie storiche del nostro club per realizzare dei fiocchi che verranno donati a tutti i nostri abbonati. Quindi vedere una persona che singolarmente si impegna sacrificando tanto tempo e non denaro per fare un gesto che comunque riteniamo sia un gesto straordinario. Sotto questo spirito tutto il club, i giocatori e altri membri della società impegneranno il loro tempo per dare risalto e luce ad associazioni benefiche che tutto il tempo si adoperano per la nostra comunità. Costo zero però anche perché saranno i tifosi a cui chiediamo di partecipare attivamente a questa campagna. Sì, noi chiediamo ai nostri tifosi che hanno sempre dimostrato di essere eccezionali nelle circostanze più difficili della vita del nostro club di amplificare per noi i nostri messaggi mi rifaccio specialmente ai social media per far sì che nonostante il messaggio non sia sponsorizzato o pubblicizzato abbia comunque, raggiunga comunque il maggior numero di persone possibile. Questo non ne va di una strategia comunicativa del nostro club Tukur ma va a favore di tutti gli enti che andremo a visitare da qui a fine estate per raccontare la loro storia. Hai un'ultima parola da rivolgere ai nostri tifosi? Sì, state uniti anche se siete distanti e forza Lugano forza, torneremo ad abbracciarci in pista e a cantare il nostro inno tutti insieme.